4-2-3-1 o 4-4-2, queste le soluzioni al vaglio di Stefano Sottili per l'Arezzo che affronterà domenica allozzini la Cremonese. Sul campo della nave di Amaranto hanno riabbracciato Pietro Arcidiacono, tornato in gruppo dopo il giorno libero concessogli per la nascita del primogenito Mattias. Sul rettangolo verde spazio ad una seduta incentrata sulla tattica. Come di consueto Sottili ha disposto una squadra con il 4-3-1-2, modulo utilizzato dalla Cremonese e dall'altra ecco inizialmente un 4-2-3-1 con Polidori ed Erpen. L'Arezzo potrebbe quindi tornare al modulo con una sola punta in vista del big match con la Cremonese di Tesserre. C'è da dire però che Sottili ha provato anche un 4-4-2 con Moscardelli e Polidori in attacco e sugli esterni Arcidiacono e Ianga. In difesa mancherà Muscat al centro, al suo posto salvo sorprese, tornerà Luca Milesi che dovrà scendere in campo con il supporto di un tutore alla spalla destra. Domani ultimo allenamento alla nave. L'Arezzo svolgerà la rifinitura sabato mattina all'interno del comunale a porte chiuse alle ore 10. Nel pomeriggio è prevista la partenza per Cremona.